Assessore Leicol, suo assessorato, ha organizzato tante iniziative di solidarietà in questi anni, ma credo che quella presentata oggi, che si è tenuta la scorsa estate con questi ragazzi che hanno lavorato negli stabilimenti balneari di Pescara, sia una delle più belle, una di quelle iniziative che forse la rende più orgogliosa. Sicuramente molto orgogliosa di questi ragazzi che hanno veramente dato il massimo di loro stessi, hanno dimostrato a tutti, a tutti noi, di quello che sono capaci di fare. Gli stabilimenti, i quattro stabilimenti che hanno aderito e ci hanno dato fiducia per questa sperimentazione, perché questa era una sperimentazione, sono rimasti veramente soddisfatti, tant'è che uno di loro già lavorerà anche per quest'inverno. Quindi, che dire, veramente il mio orgoglio non ha limite per questi ragazzi. Nando, allora, com'è andata la scorsa estate? Hai lavorato in uno stabilimento balneare, ti sei divertito? Sì, sono divertito, sono stato contento, perché tutti i lavori sono stati fatti e mi sono divertito da pace, perché era tutto l'amore mio del tramonto. E oggi sei stato premiato qui in Comune a Pescara? Certo che sì, oramai sono anni che mi premiano il Comune di Pescara. Insomma, quanto è stato bello, importante per voi avere questi lavoratori al vostro fianco? È stata un'estate particolare? È stata un'estate particolare, è stata un'esperienza bellissima. Mi hanno dato tanto amore, tanto un'energia proprio enorme, che faceva splendere tutto lo stabilimento del tramonto in qualcosa di magnifico. Perciò io le ringrazio e le rivolgo l'anno prossimo con me, sia Federico che Nando, che sono splendidi. Federico, allora, il prossimo anno si torna a lavorare al mare? Sì, sì, all'estate, sì, perché dobbiamo dare tantissimo e bere tanti soldi allo Stato. Ah, bravo. Matteo, pure tu ti sei divertito quest'estate? Sì, sì, sono divertito, ho fatto dei lavori in pizzeria e me ne ho fatto fiero, perché il pizzaiolo fa anche parte della mia vita, diciamo, e sono molto felice. Complimenti. Insomma, diceva il suo collega, insomma, è stata una bella estate e siete pronti a ripetere questa esperienza il prossimo anno? Sì, assolutamente, poi con Matteo, come diceva lui, siamo anche divertiti, tra l'altro il che non basta. Pare che lui abbia trovato anche un lavoro per l'inverno, quindi voglio dire che la cosa si è conclusa in maniera perfetta, diciamo.